Si dice, il proverbio diceva, ha da passare la nottata. La nottata è passata, ma la colla era no. Ripuliamo la testa, negativi pensieri, ragioniamo a freddo su questa partita. E non a caldissimo, perché poi anche lì le cose che si dicono a caldo vengono sempre fraintese. Si parla sempre in termini assoluti e mai situazionali. Au, calma. Sono preoccupatissimo, ragazzi, è inutile girarci attorno. C'è chi dice, non preoccupiamoci. No, no, io sono preoccupato. Sono preoccupato, ma lo dicevo le prime due partite, ragazzi. Calma, calma, mi sembra di rivedere esattamente quello che era successo con Pirlo. Là dove nascono e dove ci sono i meriti dell'Empoli, ci sono anche i grossissimi demeriti di una Juventus che è apparsa molto lenta. Ma non solamente in termini di gambe, ma di pensiero. Ed è questa, secondo me, la brutta notizia di ieri. Eh, ragazzuoli, purtroppo c'è poco da dire e probabilmente c'è anche poco da girarci attorno. Al netto di quanto visto nelle ultime due partite, queste critiche sono abbastanza giuste. Contro l'Empoli, onestamente parlando, mi aspettavo qualcosa di più. Ma non poco, ma molto, ma molto, molto di più. E invece si è giocato peggio della Roma. Peggio, peggio, peggio. Calma, ragazzi, però, eh. Calma, sto vedendo troppi i Juventini incazzati, agitati. Calma, calma. È vero che non abbiamo fatto una gran partita. Vlauvi c'è ancora una volta sotto porta che stecca. Non abbiamo giocato come le prime due partite, non abbiamo giocato a pallone bello con gli scambi rapidi. Però calma, ragazzi, calma. A tutti i veri tifosi juventini, girano ancora le scatole e sottolineo veri tifosi. Perché ieri c'è stato anche qualcuno che ha gioito, nonostante si spacciasse, per tifoso bianconero. E ha gioito per un pareggio, tornando a tirare fuori sempre la solita questione noiosa, trite di trita. Queste ombre di Allegri che escono come se non ci fosse un domani. Allora, avete rotto le scatole. Avete rotto le scatole con quest'Allegri. Allegri non c'è più, non esiste più. E non me ne frega più niente di quell'essere non allenatore. Mettetevelo in testa questo, eh. Quando è che si può iniziare, quando è consentito, perché ormai è così che dobbiamo parlare, provare ad avanzare delle critiche? O meglio, non è neanche una cosa di critica, ma iniziare ad avere dei dubbi sulla singola partita anche e sulle scelte magari di mercato. Ci mancano gli attaccanti, ci manca l'uomo di punta che va a fare gol. Poi non parliamo di quello che ha fatto l'arbitro, di quello che ha fatto l'arbitro. Dio mio, Dio mio. Proprio, la terna arbitraria italiana fa proprio pena. Fa proprio pena. A livello di terzo mondo, ragazzi miei. Io vi posso dire una cosa. Male Douglas Lewis, male i nuovi. Kefen Turam è entrato, non ha fatto niente. Ragazzi, questo veniva da un infortunio. Questi qua sono tutti nuovi. Non giocano insieme praticamente mai, perché sono tutti nuovi. A parte tre o quattro. Aveva più identità la squadra con i ragazzini che ha giocato le prime due partite con quei ragazzi che hanno fatto tutta la preparazione atletica assieme, che hanno impostato un gioco assieme. Dove deve lavorare Vlaovic sulla testa? Perché ieri, quando ha sbagliato quell'occasione su quella gran palla che gli ha dato Nico Gonzalez, una volta che ha sbagliato quella è uscito dalla partita. E questo non puoi farlo. Perché tu sei il nome della Juventus, Duzan. Tu sei il nome della Juventus. Tu sei il nostro fenomeno là davanti. Tu sei il nostro top player là davanti. Non puoi mancare così tanto. E te lo dico con tutto l'amore e il rispetto che ho nei tuoi confronti. Una volta comprese queste cose, una volta smaltita questa rabbia che deve esserci, ma deve essere una rabbia positiva, ecco che la Juve ha già l'occasione martedì in Champions League di far vedere quello che è riuscita ad imparare da questo stop. E quindi, scusate ragazzi, fatemi capire. Cioè, la Juventus dei giovani vince e convince. La Juventus invece è quella dei big, diciamo, la vera Juventus, pareggia con l'Empoli e l'altro po' la perde. Cosa sta succedendo? Come mai? Come mai questa cosa qua? Mamma mia.